Siamo alla fine della prima tappa del rally Targa Florio, purtroppo ci siamo dovuti ritirare per un inconveniente al motore della nostra Peugeot 208 e un peccato perché stavamo portando i colori della Orange One nei top 5 qua alla centesima edizione della Targa e stavamo facendo una gara in crescendo, molto intelligente credo, in quanto eravamo partiti questa mattina un po' prudenti e poi avevamo aumentato il passo nel secondo giro di prove facendo anche segnare un ottimo scratch nei top 3 ma purtroppo abbiamo avuto appunto questo inconveniente, sicuramente i tecnici cercheranno di ripararlo per gara 2 se i termini del regolamento tecnico lo consenteranno di fare queste operazioni al motore, abbiamo fatto un ottimo miglioramento da Sanremo e siamo più veloci e dobbiamo ancora cercare di migliorare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!